Come dice il mio regista Rolando Ravello, gli attori sono dei danneggiati, hanno un danno che devono andare a coprire da qualche parte. E tu ti sei chiesto quale fosse il tuo danno quando ti ha detto così? Sai quando me ne accorgo? Io mi ostino a fare dei miei spettacoli, io faccio uno spettacolo che si chiama Ti racconto una storia dove vado da solo in scena, metà spettacolo improvvisato e metà è deciso. E oggi non avrei nessun bisogno né economico né professionale di fare 600 chilometri in macchina, andare a Bolzano, fare lo spettacolo, riprendere la macchina, tornare a Roma e ritornare sul set. Continuo a farlo e penso sempre che c'è contemporaneamente qualcosa di eroico in questo e qualcosa di miserabile. Perché io so che profondamente poi alla fine questa roba la fai perché quell'applauso finale di quando stai da solo in scena e c'è un teatro da 2000-2500 posti che per 5 minuti ti batte le mani è una specie di droga.